Un saluto a tutti dall'Università di Taranto, stiamo festeggiando con Dario, che cosa? L'assunzione a Sey Street. Il primo del Business Law, Finance and Banking. Dove si trova Sey Street? Sulla strada? Danzica. Sì? Poi devi scegliere tra Danzica e... Cracovia. E alla fine hai scelto? La città del mare. Perché? Perché mi piace il mare. Il tuo sogno? Il tuo sogno? Qual è? Lavorare. Il tuo desiderio sociale? Il desiderio sociale? Aiutare i tarantini alla chiusura dell'Ilva per migliorare la salubrità dell'ambiente a Taranto. E per aiutarli a trovare un nuovo lavoro che piace al posto dell'Ilva, vero? Certo. Ragazzi, ennesimo assunto a Massi Europei. Un saluto a tutti dall'Università di Taranto. Ciao. Ciao.